ingredienti dosi per quattro persone 350 grammi di penne 180 grammi di mascarpone 120 grammi di pancetta affumicata in una fetta 10 grammi di burro prezzemolo tritato sale pepe preparazione tagliate la pancetta a dadini e fatela rosolare con il burro scolate la pasta al dente conservando mezza tazza dell'acqua di cottura versate un po di pasta in una zuppiera aggiungete due o tre cucchiai di mascarpone unite un po di pancetta e un po d'acqua di cottura versate ancora pasta e poi gli altri ingredienti alla fine aggiungete prezzemolo sale e pepe il piatto è pronto buon appetito